ciao oggi vi mostro come realizzare questi stuzzichini di pasta sfoglia facili e veloci stendo la prima pasta sfoglia spalmo del formaggio spalmabile e copro con la seconda sfoglia taglio i quadratini i miei sono di circa 4 centimetri di lato creo un piccolo incavo al loro centro e lo bucherello ora passo alla farcitura io ho usato pomodoro con origano olive funghi con prosciutto cotto formaggio con prosciutto crudo e zucca con rosmarino ma potete davvero sbizzarrirvi magari con acciughe zucchine con scamorza virsel con senape carciofini in base ai vostri gusti aggiungo infine del sale e dell'olio e infilo in forno ventilato a 180 gradi per 20 minuti e voilà ecco pronti questi sfiziosi stuzzichini di pasta sfoglia